allora 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 vogliamo fermare la musica in una marea drastica ma assolutamente no ve la fievulisco io intanto il nostro ospite lo vedo come sgargiante badatelo signore e signori uno delle colonne portanti se posso dire di tutto l'intero mulise penso che un aiuto del genere non lo avrebbe mai potuto dare qualcuno se non non mi viene da di manco niente sto lavoro lo do a fa solamente lui caro il nostro ezio varrassi un attimo che l'ho smutata ed eccoci qua devo cambiare subito la scena e non è questa ma è questa walla benvenuto caro sul canale di purtroppo buonasera a tutti come si sente come si sente ezio come stai tutto bene prima di tutto da un botto di tempo che non ci sentiamo l'ultima volta è stata per manco mi ricordo più che chi trattori la spiaggia ma che rottura di un attivo intenso sulle spiagge mamma mia mamma mia ragazzuoli in chat benvenuti a tutti vi presento uno delle colonne portanti della regione mulise regione dove io sono nato nel della stessa città tra l'altro mi ha fatto trovare giacca e cravatta non mi sono voluto manco spoi appena tornato al lavoro allora bella godo bella io bella ramona benvenuti a tutti quanti allora ezio ti lascio a te bella milli carissima buonasera abbiamo un ospite acclamato questa sera allora prima cosa è arrivato a 1061 la vice direttrice termoli vicepresidente vicepresidente se volete andare a andare a dare un'occhiata termoli wild basta che cercate su facebook raga cercate la pagina termoli wild e vi si aprirà tutto il mondo fantastico che che racchiude questa persona magnifica milly mi consenta di fare una piccola cosetta insomma mi consente di fare una piccola cosa diamo il benvenuto a una nuova vippona di questo canale e namo milly allora ti spiego praticamente da ora in poi se provare a spammare in chat insomma interagire con la chat potrai vedere un piccolo diamantino di fion di fianco il il tuo nickname questo vuol dire che lei è entrata a far parte dei vip ufficiali di questo canale ezio varrassi è una figura che va oltre il vip insomma ed io gli devo da l'editor moderatore tutto devono fare la sezione god dovrebbero fare per queste determinate cose comunque carissimo ezio una piccola introduzione ti lascio a te questa questa nostra chat prego ragazzi buonasera a tutti twitch è una nuovo social sicuramente ci saranno tanti giovani mi presento brevemente sono ezio varrassi presidente dell'associazione thermory wild fondata qualche anno fa intorno al 2016 con uno scopo ben preciso per un ambiente ed un futuro migliore per noi tutti e thermory wild abbraccia diverse tematiche parliamo di ambiente storia del territorio arte intrattenimento spettacolo creiamo cortometraggi naturalistici storici dedicati ai sapori della nostra terra quindi è un'associazione è una madre di tantissime altre associazioni tramite il nostro canale si appoggiano tante associazioni che trattano volontariato rievocazioni storiche enogastronomia spettacolo magia di tutto di più sati la trattiamo anche e noi cerchiamo di prestare vari servizi come la realizzazione di reportage cortometraggi doppiaggi lanciamo in diretta come stiamo facendo in questi giorni tantissimi artisti questo settore che è in ginocchio cantanti ballerini cantanti libici abbiamo tutto di più abbiamo anche persone che cucinano in diretta quindi ragazzi siamo un'associazione che aperta a 360 gradi soprattutto per i giovani ma che ne vanno sapere altri ma che ne vanno sapere altri e questo mi viene da dire guarda premesso questo comunque bella introduzione comunque è il filo logica ti faccio i complimenti almeno per il filo proprio storico che abbiamo che stiamo raggiungendo insomma ma dietro diciamo dietro questo la figura del del presidente insomma dietro la figura di tutte queste categorie che che ci dai modo di che ci darà in modo di mostrare anche tra poco agli altri dietro tutto questo diciamo c'è comunque una persona quella di Ezio Ezio prettamente diciamo chi è dove è nato contesto diciamo raccontaci un po un pochino di te insomma ci sciogliamo chiacchiere da bar vai è nato a termoli nel 1979 è nato nelle periferie di termoli io sono nato in prossimità di un quartiere popolare di piazza del papa ho vissuto tra piazza del papa via canada via asia san pietro quindi sono nato tra la gente in mezzo alla strada crescendo ho fatto varie professioni ho conseguito anche qualche anno all'università di termoli scienze turistiche sono un geometra non praticato in questo momento e dal 2013 perdendo un lavoro molto particolare ho fatto sicurezza industriale lavoravo sulla pesa e controllavo l'uscita dei mezzi di una nota multinazionale una delle più grandi multinazionali a livello mondiale non sono segreti professionali dove lì mi sono specializzato sul controllo sia del personale e del via vai di alcuni materiali e rifiuti speciali materiali parliamo di metalli preziosi come rame oro argento titanio fino ad arrivare rifiuti speciali che dovevano essere smaltiti nel modo più corretto possibile dovevamo controllare se questi rifiuti andavano nei siti di stoccaggio o certe volte venivano abbandonati per strada o seppellite eccetera eccetera da lì mi sono appassionato per l'ambiente mi sono appassionato totalmente tanto che ho diciamo ho iniziato a prendere conoscenza anche dei meccanismi dei traffici di vari materiali e da lì sono arrivato a trattare le discariche abusive ok Ezio ti chiedo scusa se ti interrompo ti chiedo scusa se ti interrompo Ezio Davidone grazie mille dell'abbonamento terzo mese a livello 1 sei un amore bellissimo Davide ti presento Ezio Varrassi guarda sei arrivato giusto in tempo perché ci stava spiegando il suo percorso abbiamo spiegato già che cos'è Termoli Wild questo progetto che ci sta diciamo che racchiude è un progetto che racchiude una miriade di progetti e stava facendo una piccola presentazione te lo volevo presentare anzi si stava finendo di presentare scusami se ti ho interrotto Ezio scusami prego finisci pure saluto il pubblico e quelli che sono arrivati adesso in diretta niente ragazzi da lì mi sono appassionato sull'ambiente oggi ho la preparazione la capacità di capire quando un territorio tra virgolette malato e inquinato che tipo di mezzi passano che tipo di rifiuti vanno diciamo a rinterrare o ad abbandonare quindi ci vuole tanta esperienza non è un lavoro facile e anche rischioso ci vuole anche tanta preparazione e soprattutto crescere con gente preparata io ho avuto la fortuna di essere stato formato da persone tra le migliori presenti a livello nazionale su questo settore si può dire anche che comunque questa diciamo questa tua attuale passione ovvero quella che stai sviluppando comunque con Thermoly Wild può derivare anche da tutti i scenni che hai con cui hai avuto a che fare in passato dai lavori differenti insomma dalle diverse ottiche di lavoro o magari anche dal 2013 ho preso questa preparazione ho aperto questa associazione è nata prima diciamo per la lotta all'inquinamento ambientale dopo qualche anno sono arrivate anche altre proposte trattiamo storia del territorio trattiamo la nuova astronomia trattiamo lo spettacolo animazione trattiamo l'arte la pittura e da lì grazie alle altre associazioni che collaborano ancora oggi con Thermoly Wild mi sono appassionato a 360 gradi su qualsiasi tipo di argomento quindi dalla storia del territorio alla natura all'ambiente a tutto andiamo anche in visita nelle scuole siamo stati nelle scuole adesso non è possibile quindi abbiamo fatto appassionare anche tanti bambini e tanti ragazzi giovani guarda secondo me questo tipo di passione ce l'abbiamo solamente noi che veniamo dal Molise guarda cioè guarda io sinceramente mi sto anche nella per quanto riguarda la mia carriera lavorativa insomma ho iniziato a fare il cameriere poi mi sono rotto le scatole perché era sempre le stesse cose da fare mi sono messo a fare il muratore poi mi sono messo a fare per farti capire io sono arrivato ora a lavorare con un'agenzia immobiliare attualmente sono non dico un agente immobiliare ma comunque il percorso dovrà essere quello insomma mi sono ritrovato a passare ai ristoranti dai peggio bettole a insomma un qualcosa che comunque non mi sono mai riaffacciato ma è comunque guarda cambiare lavoro secondo me ti apre la mentalità in una maniera assurda perché ti riaffacci comunque su più situazioni e ti danno modo comunque di vivere la realtà in una maniera differente assolutamente parlando di questo volevo anche chiarire la oddio chiarire iniziare a parlare un attimino di questa regione dimenticata da cristo insomma visto che siamo su questo social il Molise non è una regione dimenticata secondo me io sono una persona completamente apolitica se no non potrei fare questo tipo di reporter diciamo di denunce e quant'altro ci arriveremo anche ci arriveremo anche la parte politica e se non ti preoccupa che c'è no da di pure io c'è no da di io non non tratto la politica se qualcosa non va la filmo la sbatto sul web se la cambiano è bene se non la cambiano è un problema di chi amministra il territorio e lo possiamo dire pure forte io faccio così il mio motto è questo io sono ripetitivo se una cosa deve essere aggiustata o c'è una cosa in abbandono o c'è una discarica abusiva io martello vado lì posto 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 sono seguito anche dagli antipreposti che collaborano con noi e degli amministratori diciamo in questa amministrazione comunale ma anche nella passata quindi loro lo sanno io non guardo in faccia nessuno se bisogna togliere una cosa un problema sul territorio si deve fare a qualsiasi costo i costi anche economici sono alti certe volte per bonificare una discarica noi aspettiamo ma poi quando passano tre quattro anni allora alziamo un attimo la voce inizia a essere un po vista come una presa per il culo insomma se proprio vogliamo utilizzare un termine un po più francese insomma sanità e ambiente ultimamente nella regione molise sono stati poi settori che hanno un po abbandonato non sono un po troppo al cemento come si dice ecco non so se visto anche quell'immaginetta che arriva da civita vecchia dove se non mi sbaglio era civita vecchia dove c'è scritto il molise resiste poi è stato sbarrato il molise esiste sbarrato il molise muore e come diciamo come la come la interpreti questa questa immagine insomma vido che il molise non morirà fino a quando ci sono persone come noi quindi fino a quando ci saranno persone come noi che sono attaccate alla terra hanno scelto di rimanere qui lottare per un ambiente un futuro e per una società migliore possono stare tranquilli che il molise resiste ma è anche bello perché noi abbiamo anche un progetto che si chiama scopri il molise dove stiamo realizzando da settembre ora siamo fermi vari documentari siamo partiti a filmare a documentare attraverso reportage dedicati alla storia alla natura e ai sapori san giacomo degli schiavoni andate a san giacomo ragazzi perché san giacomo ha tante meraviglie che molte persone non conoscevano tra cui tra cui la macelleria berchicci questo lo dobbiamo dire andate anche a nome nostro perché abbiamo realizzato per la prima volta un documentario al signor berchicci ci ha fatto mangiare di tutto e lo sapevo è che non lo so prodotti molisani genuini chilometro zero a cento per cento vi fa anche lo scondo se andate a nome nostro se utilizzate il codice codice termoli wild e codice purtroppo dalla macelleria berchicci avete il 20 per cento di sconto andate da per tutto più l'afferitivo incluso mi fa queste cose qua questo abbiamo il miele a san giacomo abbiamo formaggio abbiamo tra l'altro l'ultimo pastore rimasto sul nostro territorio il signor cappa bianca pascola le pecore tutto il suo bestiame a circa 500 capi di bestiame sul vecchio tratturo quello che si affaccia sulla sinarca dove ho realizzato anche un bel documentario ragazzi abbiamo ancora la storia le radici e con tutti i sapori che sono ancora unici perché ogni territorio ha un prodotto unico come specie come caratteristiche come tutto sul territorio diciamo tra termoli san giacomo anche monte ciffone guarda vorrei se ancora non andiamo a trattare ecco poi arriviamo a guglionesi innanzitutto vorrei dire a chi non lo saprei chi magari non sa questa cosa in chat dal molise in tutta italia arriva quasi il 70 per cento della produzione di tartufo quindi la prossima volta e grano prendono anche come c'è anche la molisana qui prendono il grano che viene coltivato intorno termoli san giacomo guglionesi monte ciffone palata è il nostro grano è uno dei migliori d'italia e che ma gli altri che cosa ne vogliono sapere se non se lo vengono a mangiare io ieri ho parlato allora io c'ho una collega di salerno per farti capire lavoro lavoro comunque con molti ragazzi uno che è stato in australia uno che pugliese il team leader lo adoro pugliese oddio lo lo adoro lui viene da altamura quando lo sento a parlare io lo rifrego sempre bellissimo ci sta sta ragazza di salerno che non sapeva che erano i torcinelli io quando gliel'ho spiegato questa sai che mi ha detto ma te i magni te i magni te tu prima cosa sei di salerno mi parli il romano e poi mi dici che i torcinelli fanno schifo io glieli porto domani voglio vedere se se li magna voglio vedere se se li magna voglio vedere io vendi torcinelli macelleria berchicci codice purtroppo e codice termoli wild 20 anzi 40 per cento di sconto se vi trovate nei pressi di san giacomo marcella macelleria berchicci macelleria florio monte cilfone macellerie de michele campo marino e guglionesi ma abbiamo tutto ragazzi quando non andate a centro commerciale a comprare la carne di allevamento intensivi andate in queste macellerie i soldi li dobbiamo portare ai nostri imprenditori perché sono il futuro della nostra società non è la grande distribuzione perché se perdiamo questi imprenditori locali ragazzi perdiamo anche le nostre tradizioni guarda vorrei fare un piccolo riferimento anche alla chat voi preferireste spendere 10 euro per 500 grammi di non si sa che cosa imballato in tre chili di plastica o volete mangiare 5 euro di carne come cristo comanda chat ditemelo macelleria andare sempre al nome mio perché stiamo a fai documentare sti ragazzi signori imprenditori sconti assicurati la carne come costa un centro commerciale la pagate anche lì ma lì è genuina lì è genuina 100% l'animale è a chilometro zero ma quello che la natura ci dà parlando di di questi insomma allevamenti intensivi e diciamo tutta questa gogna mediatica che anche si sviluppa su di loro direi giustamente ma alcuni magari non saranno d'accordo a te magari te è capitato di avere a che fare con questo tipo di persone o con questo tipo di allevamenti anche e intercettare magari delle mosse che potevano essere azzardate dagli altri allora fortunatamente qui molise ne abbiamo pochissimi di allevamenti intensivi io non ho avuto mai il coraggio di entrare in un allevamento intensivo perché vedo talmente tanti filmati io non sono diciamo vegano io mangio carne te lo stavo per chiedere l'animale l'animale deve essere rispettato dalla nascita fino alla morte non si può chiudere in gabbia per esempio una scrofa la femmina del maiale e farla vivere per sei anni chiusi in una gabbia senza possibilità di movimento e farla diciamo partorire 50 60 cuccioli di maiale fino a quando non ce la fa più fisicamente poi viene portata al macello esatto per esempio gli animali sono gli animali sono intelligenti e hanno anche una dignità quindi io mangio il maiale mangio la mucca però facciamoli vivere nel migliore dei modi fino a quando arriva il momento ma anche perché noi siamo noi siamo diciamo siamo liberi se noi andiamo nella savana il leone se ci incontra un leone ragazzi non è che ci chiede scuse tu sei vegano che c'era quello ci mangia ci fa ragazzi quindi noi facciamo parte della catena alimentare poi ci sono anche vari stili di vita uno sceglie di essere vegetariano per determinati motivi vegano io rispetto ma queste persone devono anche rispettare noi che mangiamo tutto siamo liberi beh cioè certo insomma vorrei fare pure un'altra precisazione su quello che hai detto pure io ci farei una clip su quella del leone che dice scusa sei vegano non è che te posso mangiare un muzzichino io sono stato in messico e roba varia ho incontrato un coguare e una pantera non domandano niente non ti pensano un secondo ho avuto la fortuna di stare su un fuoristrada e scappato proprio come un razzo perché non vi chiedono guarda ho visto ancora di più ancora di più perché la carne è più saporita già sei morto mi pindano invece guarda ho letto ho visto un documentario l'altro giorno parlavano del drago di komodo dicevano che praticamente tu quando lo vedi che sta che sta a 20 centimetri da te vuol dire che tu sei già morto perché praticamente lui quando ti morde si sta a 20 metri perché hai visto come che velocità hanno le lucertole esatto esatto loro sono mille volte più grandi di una lucertola quindi arrivano pure a 60 km orari è come se ti rincorri un motorino sei morto uguale anche se stai a 20 metri e la loro saliva contiene quel veleno che insomma ti puoi immobilizzare di punto in bianco ti immobilizza e non puoi fare più nulla insomma blocca anche le piastrine esatto puoi morire anche di sanguato durante il loro morso esatto 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 infatti diceva c'è un detto giapponese che diceva proprio il tradotto in italiano era una cosa lunghissima che in poche parole voleva dire se tu vedi da vicino il drago di komodo vuol dire che sei già morto insomma sì sì o leone o drago di komodo esattamente insomma sembra pecora ti permette sono la forma donni sante parola mille tu c'è la fortuna di abito a Monteciffone madonna io a Monteciffone non ci torno da non so manco quanto tempo e anche lì guarda è una comunità splendida ospitale come quella di San Giacomo ecco che non lo so due tre mesi che sono lì mi stanno trattando come un figlio saluto mille saluto Daniela tutti gli amici di Monteciffone di San Giacomo di Termoli andate perché ragazzi le persone sono col cuore in mano guarda io andate io a questo punto colgo l'occasione per salutare il mio vecchio professore delle superiori oddio non mi ricordo ma l'occhio si chiamava non mi ricordo comunque era di Uru era di Uru parlavo un pochino mamma quanto mi manca a me la pronuncia di Uru guarda ti giuro ci vorrei ritornare solo per sentirli parlare certe volte ti giuro ti giuro mamma mia allora oltre questo diciamo gli allevamenti intensivi e tutte queste cose che ci girano attorno insomma hai potuto avere comunque abbiamo avuto modo di constatare che comunque in Molise non c'è questa assidua presenza di tutte queste assidualmente no gli allevamenti intensivi sono un po' più verso la pianura padana al nord al nord al nord esatto non ho il coraggio di entrare e vedere un animale in gabbia soffrire per quanto riguarda invece diciamo tutte quelle magari sicuramente avrei avuto a che fare con allevamenti di un certo livello insomma essendo in una regione come questa piena di possibilità comunque avendo dei campi enormi ti è oltre diciamo quelle di della regione ti è mai mai partita quella quello schioccardi dita che dice magari perché non espandermi magari anche oltre la regione se hai avuto insomma questa questa goliarda voglia di di espansione con Termoli Wild siamo arrivati a realizzare i documentari ad Apricena a Torre Maggiore ok siamo arrivati a Merfi abbiamo ripercorso la storia del territorio di Federico II partendo con l'associazione Terzo Millennio dal castello di Termoli con un reportage che ho realizzato e intitolato la tavola federiciana ok siamo arrivati ad Apricena sempre con l'associazione Terzo Millennio poi sono andato a Torre Maggiore ho realizzato un reportage in collaborazione con l'Ordo Cavalieri Termole l'associazione dei Cavaliere di Termoli Torre Maggiore da Torre Maggiore a Merfi quindi abbiamo già lavorato a livello extra regionale e abbiamo già realizzato e siamo seguiti anche dalla Basilicata e dalla Puglia addirittura scusami se ti interrompo Ezio Franca86 benvenuta nella grande ma piccola community di Twitch di Purtroppo oggi con noi ospite Ezio Varrassi te lo presento eccolo qui è un onore parlare ai giovani perché come ho detto prima Twitch è un social nuovo quindi ci saranno sicuramente tanti giovani guarda io di questa cosa guarda a me mi è venuto il pallino di iniziartene a parlare di la verità qualche mese fa perché avevo visto che comunque questo tuo progetto stava portando un contributo positivo ovviamente a questa regione non solo anche a livello mediatico a livello mediatico ovviamente hai colpito magari non hai colpito proprio il bull ma comunque piano piano ci stiamo arrivando anche perché questo contenuto insomma il percorso è lungo io non è che sono solo io potrei realizzare pure 70 documentari in un mese ma ci vogliono tante persone un lavoro dietro perché noi siamo c'è un lavoro dietro ti ripresenta che ogni minuto di montaggio video di un cortometraggio è un'ora di lavoro esatto quindi se io devo realizzare una prima puntata che dura 30 minuti un reportage o un cortometraggio di solito hanno una lunghezza media di 30 minuti sono 30 ore di lavoro seduto davanti al pc beh un po' come stacchi, problemi diciamo che anche in questo mondo diciamo che nel mondo mediatico di Twitch insomma è un po' la stessa realtà insomma se voglio vederla con i miei occhi ad esempio quella di un ragazzo che ha comunque un lavoro e lo fa per passatempo diciamo che staccare dal lavoro portarsi a casa magari un po' di lavoro arretrato e poi riprendere subito come abbiamo fatto oggi perché la rega sta live è stata arrangiatissima io ho chiesto a Ezio ieri perché mi è venuto il pallino ho visto un video ho visto ho detto no vabbè lui lo devo chiamare punto ho visto un video bello o un video brutto? no assolutamente un video bello magari quello che ci stava dentro era brutto però il video era bello allora quello è il personaggio che ti sarà capitato quando faccio il tour wild in giro ne ho visto uno ne ho visto un po' tempo fa sono efficaci guarda perfetto per quanto riguarda poi ti volevo chiedere per quanto riguarda anche la collaborazione con Luca perché gli ho chiesto di essere ospite arriviamo alla sala un pochettino insomma cerchiamo di sbollare lo chiamo il mio figlio piccolino però siamo grandi tutti e due certo usciamo insieme facciamo le serate il sabato sera ormai c'è questo feeling adesso siamo a casa siamo su whatsapp 21 ore al giorno perché noi doppiamo anche altra gente ci teniamo sempre allenati è in chat Luca adesso in diretta? allora non credo adesso vabbè ma va a finire che ci sarà un momento in cui lo vedremo ma c'era sicuramente oddio chi era? noi che facciamo ci teniamo allenati quindi ci mandiamo i vocali di un personaggio faccio il doppiaggio li mando il vocale doppia questo che poi dobbiamo fare questo pezzo di filmato con Luca siamo partiti a doppiare sulle mancanze di Termoli col personaggio storico di Hit non so se vi ricordate aspetta che lo metto lo metto pure il streaming su Facebook sono quelle lì su Termoli no su Youtube vai scrivi doppiaggi in Termolese Termoli Wild e ti esce tutta la ok perfetto abbiamo avuto successo lì diciamo con i primi doppiaggi di Fantozzi Hit, Gomorra abbiamo doppiato pure un po' Schwarzenegger, Robocop questi filmati per esempio pure c'è una scena di Leonardo Di Caprio che abbraccia la compagna che sta sulla barca che dico a Top Dunase che stiamo arrivati a Nanzu Depuratore Top Dunase insomma queste cose qui e poi siamo partiti a doppiare dei veri e propri film e c'è diciamo la prima saga che abbiamo lanciato Rocky a Termola abbiamo preso il film di Silvestre Stallone da Rocky 1, 2, 3 fino ad arrivare al quinto capitolo quindi prendere 6-7 minuti di un film e doppiare i film tramite e prendere diciamo le mancanze di Termoli e fare le battute in Termolese quindi doppiando Apollo Rocky Poli Adriana guarda io c'ho stiamo a doppiare un po' tutto guarda c'ho qua davanti a me c'ho qua davanti a me un video un video di un doppiaggio tuo sicuramente con Ryoda descrizione a Termoli vogliono spostare la stazione io quando vedi sto video ho pensato la stessa cosa Star Wars Star Wars sì esatto quello l'ho fatto io sì sì ma se vogliamo perché va a finire che qualcuno in chat non saprà di questa cosa insomma alla fine Termoli un piccolo comune a Roma ti dico lo conoscono io quando dico che sono di Termoli certe persone mi vengono oh tu sei di Termoli ho mangiato la meglio zuppa di pesce da Zibbas la parte proprio la apoteosi guarda la parte napoteosi mamma mia per fare questi doppiaggi non è facile Piero molta gente ci dice tu pensa per fare un doppiaggio di sei minuti di doppiare sei minuti di un film eh ci sta tutto il lavoro dietro dobbiamo lavorare otto ore ti credo ti credo perché dobbiamo combinare il labiale con la battuta esatto quella è la cosa più difficile e poi bisogna far ridere anche la gente mica puoi doppiare e non far ridere nessuno mi puoi fare una figura che è meglio che non lo pubblico ti porta esatto esatto certe cose è meglio farle meglio farle bene una volta magari è difficile far ridere le persone è difficile coordinare la battuta intermolese con l'abbiale figurati ecco guarda io ci ho provato io ho provato ieri con ho cercato di lanciare una specie di nuovo format che era proprio una specie di rubrica di doppiaggio insomma che rubrica non voleva essere era più una cosa per passare il tempo insomma per cercare di inventarmi qualcosa ho provato a doppiare l'uomo tigre in abruzzese perché ti spiego io ci ho non so se hai mai sentito di questa modalità di roleplay che ci sta su GTA praticamente ci sono dei server che gestiscono diversi ragazzi ce ne sono anche di più in tutta Italia addirittura uno in cui viene simulata la città di Roma altri in cui viene simulata la città di Milano e ci sono diciamo tutti gli utenti vanno a simulare un determinato personaggio che può andare da Barbara D'Urso a Cristiano Malgioglio io mi sono inventato questo personaggio che si chiama Gianluca nato a Tortona e ha avuto sempre a che faccia sempre sta cazzo di fiaschetta di vino di Montepulciano con sé guarda io penso che da oggi inizierò a vedere qualche video vostro perché vorrei prendere spunto anche per un personaggio termolese tutti i video che pubblichiamo siete liberi di prenderli e pubblicarli dove volete noi siamo un movimento dove l'importante è che arrivi il messaggio quindi che faccia ridere una persona da un utente che faccia conoscere il Molise quindi noi non siamo un canale no quello mi ha pubblicato il video la copyright è mia assolutamente a noi fa piacere quindi potete prendere tutto il materiale che ritenete utile e pubblicarlo sui vostri social non a caso mi sono appena iscritto sul vostro canale youtube e l'ho appena spammato in chat e anche qualche minuto fa insomma il canale youtube è piccolino noi siamo seguiti tanto su facebook che noi siamo nati nel 2014 su facebook adesso in appoggio abbiamo attivato youtube abbiamo anche il canale instagram ed oggi anche se twitch guarda oggi magari off stream ti darò magari ti do qualche dritta ci sono magari un paio di persone che vorrei presentarti per quanto riguarda questa cosa sono due persone che nella nostra regione sono molto molto conosciuti non so se conosci Mario Palladino e Nicola Palmieri di dove sono? sono di Termoli e ti spiego loro sono degli youtuber molto molto ma molto conosciuti a livello nazionale ogni tanto mi ci sento perché a parte che comunque ho la fortuna che la mia ragazza comunque li conosce Mario personalmente ha costruito il pc con cui sto facendo la streaming e con cui giocava a Donatella prima che iniziassi anche questa piccola ma grande questo piccolo ma grande percorso insomma su questa piattaforma c'è una cosa di cui insomma magari cercheremo di riallacciare qualche rapporto perché loro mi hanno detto che la regione insomma li ha sempre quasi esclusi da qualsiasi attività che loro volevano fare che sia anche di propaganda a livello nazionale cioè quando li conosce le aiutiamo noi quando me ne hanno parlato così così mediocremente di questa cosa io mi sono sentito proprio le palle arriva a terra guarda scusa il francesismo perché non si può noi abbiamo la fortuna di avere degli imprenditori che ci contattano che ci vogliono sostenere quindi tramite questi fondi che ci arrivano noi realizziamo qualsiasi cosa ultimamente sono entrate a sostenerci l'amministrazione comunale di San Giacomo e di Monte Cifone però fino a questo momento ragazzi è stata dura perché abbiamo sempre recuperato i fondi sono andato sempre in giro a chiedere gli sponsor ho avuto sempre risposte positive e in più durante questo percorso di raccolta dei fonti ho anche allestito un sito quindi Termo Rivaldi è anche un sito dove potete trovare tutto quello che abbiamo fatto infatti l'ho anche fatto le varie categorie c'è inquinamento ambientale storia del territorio stati scopri il Molise questo progetto che abbiamo anche un blog su facebook molto bello trattiamo anche il bracconaggio e la pesca di frodo qui in questi posti accadono queste cose a parte gli allevamenti intensivi ragazzi qua accadono delle cose che non tutti conoscono e sanno noi abbiamo bloccato diverse situazioni abbiamo segnalato in tempo reale agli enti preposti abbiamo beccato varie squadre di pescatori di frodo che ogni notte puntualmente depredavano quasi tutta la costa Termolesi questo infatti infatti un paio di segnalazioni se non mi sbaglio te ne ho pure mannate quando stavamo là sai quante volte ho chiamato sai quante volte chiamavo non erano del posto quando mai vengono da fuori sai i carabinieri le persone che vengono qui le persone che vengono qui a pescare ragazzi sulle loro coste già hanno finito tutto e beh poi i carabinieri e la polizia va aspettare una chiamata e ciao a della matriciana quando chiamiamo noi rispondono subito in tempo reale lo sanno che noi siamo siamo pignoli noi stiamo lì seguiamo tutto e poi loro attaccano franco86 speaker la finisci di mangiare amore mio io ti chiedo scusa io sono tornato a casa non mi sono manco svestito ho mangiato in diretta con Ezio io intanto che aspettavo lui praticamente ci sono stati 5 minuti in cui io stavo a mangiare correvo di là prendo il caricatore dovevo prendere la brocca dell'acqua perché se fanno i redeem bevi poi è tutto un casino franco ti chiedo scusa amore mio la prossima volta non lo farò più anzi mi faccio trovare con le lasagne la prossima volta le lasagne e i torcinelli alla faccia tua Ezio diciamo che comunque abbiamo capito che comunque questo percorso è stato difficile e comunque c'è bisogno di una costanza ma ti faccio una piccola domanda è stato più difficile l'avvio o mantenere una certa costanza una volta che diciamo si aprono comunque diverse trasmissioni diversi format e cerchi sempre di invogliare più gente allora io da quando sono nato ho la passione per l'ambiente la natura per la storia anche a scuola seguivo certe materie andavo bene come per esempio anche l'università scienze turistiche ho anche nozioni di economia sono anche un geometro anche a livello tecnico sono abbastanza preparato però per motivi lavorativi non ho finito gli studi quindi non sono arrivato alla laurea questa è una cosa che ho voluto comunque fare di mia volontà quindi mi sono messo comunque a studiare a tempo perso ma a livello tecnico è stato difficile all'inizio perché arrivare a fare diciamo realizzare un documentario mi sono dovuto diciamo preparare con dei tutorial notte intere chiusi in cameretta perché ho dovuto seguire i tutorial per il montaggio per la scena per la scenografia quindi essere un regista oggi è stato veramente difficile ragazzi io penso che il regista è uno dei lavori più difficili del mondo beh devi gestire l'attimo della scena devi calcolare la luce i movimenti devi prevedere anche i movimenti di un attore oppure di chi li prendi ragazzi non è facile io sono aperto a tutti quando vado in giro su Montecifone ho dei ragazzi che mi seguono si mettono dietro le quinte perché io ho imparato anche dietro le quinte io ho iniziato a capire quando una persona li prendeva con il telefonino cosa faceva a casa io sono andato dietro determinati professionisti e oggi ho diciamo ho raccolto tutte queste informazioni e oggi posso dire che me la cavo bene col montaggio e con la regia beh insomma poi c'è bisogno comunque di un supporto meccanico a un certo punto che ha a che fare con macchine che hanno anche un determinato valore insomma anche questo lo spirito lo spirito di iniziativa dell'investimento non è vero anche un ragazzo con un telefonino con la scuola e quella gavetta che ho fatto io potrebbe riuscire a fare un documentario in HD in alta definizione come quelli che pubblico non è tanto il mezzo è quello che hai dentro ovviamente saperlo gestire bene un po' come funziona anche nell'oro questa è una cosa che me l'ha fatto capire un giornalista che sto collaborando c'è l'estero barbato della RAI che segue tutto il nostro percorso a livello televisivo e quindi lui mi ha detto questa cosa io sono rimasto veramente contento da questa cosa e Tazio a noi piaci perché non è i mezzi che hai è quello che hai in testa e se quello che hai in testa lo riesci a realizzare anche con delle attrezzature mediocre economiche tu raggiungi lo stesso obiettivo beh se poi insomma c'è anche un tipo di supporto anche da tutti quanti gli altri enti insomma inizia a diventare anche un po' un po' più facile insomma quello che è dentro ovviamente chat non è quello che c'è dentro il cervello è il contenuto che è rimane dentro una persona fino a quando non ti calano esatto la regia è come un pittore se tu prendi un telo vuoi fare un disegno tu lo fai più bello rispetto a quello a quello a fianco oppure viceversa è quello che hai dentro è tutta fantasia la regia ragazzi da quant'è che diciamo comunque da quant'è che ti sei iniziato a diciamo a impostare un magari un determinato pubblico o magari un determinato target di di utenza qui su Twitch dico alla fine su Twitch oddio scusami su con Termoli Wild perché ti spiego diciamo esatto perché comunque Facebook diciamo che racchiude una miriade di di tipi di persone per quanto riguarda il il target insomma che deve essere comunque ovviamente diciamo specifico rivolto per persone che hanno qualcosa da dire insomma questa cosa come la sei riuscita a gestire insomma hai fatto magari se hai usato magari qualche tecnica particolare o magari non dico non voglio assolutamente utilizzare la parola incito all'odio assolutamente ma diciamo per vederla un po' come un c'è caccia la testa fuori dall'uovo e sbattici la testa perché se no non ci arriveresti più insomma diciamo che sono partito nel derunciare le piccole cose quindi dalla panchina rotta dal bidone dell'immondizia rotto fino ad arrivare alla discarica abusiva dalla panchina rotta alla discarica abusiva io ogni segnalazione che mi sono iniziato ad arrivare da 2 a 5 adesso mi arrivano 50 60 al giorno io prendevo la macchina e andavo all'avventura sul territorio quindi c'è stata prima una conoscenza del territorio oggi sono in grado di dire tutto il territorio come sta a livello ambientale se mi arrivo una segnalazione vedo diciamo la mappa vedo google già so dov'è la discarica e cosa c'è dentro quindi chi vuole trattare l'ambiente chi vuole fare attivismo ragazzi deve prima conoscere il territorio perché ce ne sono tanti che dicono che combattono l'ambiente l'inquinamento ma non conoscono il territorio alla fine non lo conosco se un attivista non conosce il territorio non può parlare secondo me quindi questa è la cosa importante è un po' come diciamo anche il lavoro che sto svolgendo io adesso insomma affinché tu possa fare una chiamata decente nel senso diciamo quello che faccio io al lavoro prettamente è quello di ovviamente fare qualche chiamata affinché qualche cliente possa usufruire di un nostro servizio immobiliare ma comunque la base di tutto è proprio questo devi conoscere la zona affinché cioè per far arrivare i risultati devi conoscere tutte le persone che c'è attorno devi conoscere battere la zona conoscere abbattere la zona e importi anche sul territorio perché quando vedono noi ormai la gente che fa quei furbitti per esempio vado per Termo qualcuno mi conosce che fa voleva buttare la busta in un modo particolare vedo le persone che la busta mi vedono a me se la riporto indietro a casa a me dispiace però è una cosa simpatica che ho vissuto anche devi conoscere ti devi imporre sul territorio quando passi tu questi incivili stanno a cuccia guarda mi ricordo pure c'è stata quell'estate che passavo lì alla piovra quando facevo il guardiano notturno ci stavano quelli che stavano con i camper non so se ti ricordi dove sta il Chan lì c'era un parcheggio dove ci stavano la maggior parte erano tutti quanti i camperisti insomma che si mettevano là per l'estate o mettevano la busta della minnezza non è che la mettevano in una maniera ordinata no buttavano là la merda del cane la bustina la mettevano proprio appoggiata sul cestino manca buttavano dentro cioè penso che gli incivili non sono solo i turisti no quello ovviamente no queste sere abbiamo pubblicato delle foto che ci sono degli incivili che sono residenti nel borgo antico e continuano a smaltire i loro rifiuti non nei loro mastelli condominali o privati ma nei cestini pubblici quindi quei cestini piccolini che sono per la cicca e la sigaretta per la busta di patatine loro arrivano puntualmente ogni sere e buttano intere buste di mondizi quelli sono incivili del posto ci sta anche l'estate Millie un'altra cosa di cui volevo parlare è proprio questa io glielo stavo a chiedere perché allora magari quei periodi in cui ci stavano io mi ricordo una volta allora ti ti dico sta mia esperienza proprio io da quel momento ho iniziato a schifare la maggior parte di quelle persone praticamente il periodo in cui facevi qualche filone a scuola no non te ne andava te ne andavi dove te ne andavi o te ne andavi al chisso te ne andavi al parco in certo punto il parco il parco era diventato una un immun cioè scusami il termine proprio grezzo ma era diventato a un certo punto proprio un monnezzaro dove cioè i parchi dei cani erano considerati insomma punto di ritrovo per gente che ovviamente faceva altro ma ci sta pure gente che ha fatto di peggio insomma vogliamo dire senza fare distinzioni perché la legge è legge e va bene ma a un certo punto insomma sta sta zona che è successo io ho saputo che tu sei arrivato là poi arriva è successo il finimondo che è successo al parco di termoli parco di termoli lo filmo da otto anni oggi l'unica cosa che le uniche cose che sono cambiate è una c'è una miglior gestione del verde e una miglior gestione dei rifiuti detto questo tolte queste due cose e noi abbiamo ancora una villa comunale morta molto in che senso è priva dell'anima è priva di un chiosco un punto di riferimento per i bambini è priva di un guardiano è priva di attrazioni per i bambini come per esempio il laghetto che abbiamo qui al parco comunque ultimamente c'era un germano ci è capitato un uccello acquatico non lo so come ci è capitato ci è capitato lo stiamo controllando con lampana cioè per esempio partire al laghetto il laghetto lo hanno suddiviso hanno tolto le tartarughe autoctone hanno lasciato quelle aliene quelle esotiche e li hanno suddivise in base ai sessi per non farle riprodurre beh sono tre anni e mezzo che quello ha detto e così sembra un allevamento di anguille tu dimmi come fa un bambino andare lì ad essere contento a vedere una vasca del genere non è contento ragazzi quindi che cosa ha bisogno di parco comunale di piccole cose che possono far diventare il parco comunale grande come lo era un tempo guarda ti va guarda parlando proprio del parco a me viene parlato di Giovanni non so se hai capito come no caro Giovanni l'ex guardiano esatto guarda io ho avuto un'esperienza con lui era così guarda io mi ricordo un'esperienza praticamente eravamo un gruppo di ragazzi che stavamo su in un in un centro sociale educativo non so se ti ricordi era quello che era vicino il vicino il cannarsa a fianco ci sta prendendo una piccola discesa doveva finire in un negozio che oddio trattava comunque mobili da giardino ma non so che cosa ci hanno costruito al posto di sto centro qui ci portarono al parco ok io ero un'anima non dico candida ma ero un diavolo racchiuso in un angelo mi è arrivata una cullizza da Giovanni perché ho buttato una carta per terra io da quel momento ho cambiato prospettiva anche se ti dico le prime volte quando eri giovane che non lo conoscevi diciamo ti partiva un po' quell'attimo di burlo insomma alla fin fine ma non voleva essere come una presa in giro ma insomma non lo so alla fine eri un bambino quindi alcune cose non ti veniva da pensarle nemmeno ti dico che mo' a pensare la figura di Giovanni che non c'è quel parco che è ridotto una merda si era importante allora il parco non è che è ridotto una merda diciamo era per dire in una maniera il parco è morto è morto nel senso che se tu vai col tuo bambino a parte che in questa estate noi abbiamo fatto abbiamo raccolto dei fondi tramite residenti volontari abbiamo distribuito e abbiamo animato il parco comunale di mia iniziativa senza tener conto al comune di Termoli per tutta l'estate sabato e domenica andavamo al parco portavamo le bevande analcoliche regalavamo acqua bevande tutto con i fondi che raccogliavamo durante la settimana c'è anche Emilia in diretta la può confermare anche lei veniva con me la gente era rinata l'unica mancanza il bagno vedere delle persone anziate che dopo 10 minuti adesso devo andare via perché è perché qua non c'è il bagno mica posso fare la pipì con l'albero una donna di 70 anni vabbè pure c'ha ragione vedere famiglie andare via per mancanza il bc è stata una cosa vergognosa poi ci rilasciamo sempre ci rilasciamo un po' anche a quello che è l'aspetto tossico diciamo che parte da twitch insomma ma va a finire anche sul sociale ci possiamo andare a mettere un bagno un bc pubblico là dentro ma come lo riducono dopo due settimane c'è il allora io c'è un bar chiuso da 10 anni scusami allora ci sono delle persone che hanno il reddito di cittadinanza e sono a casa abbiamo dei ragazzi di colore buttati in mezzo la strada che non fanno niente prendiamo queste persone prendiamo i pensionati riapriamo quella baracca io la chiamo la baracca quel bar che è chiuso da 10 anni riapriamolo il comune investe un po' di soldini nel riempire con un frigorifero un po' di bevande e tutto che succede? fai lavorare queste persone dai il parco comunale a queste persone una cosa del genere è stata fatta non so se è ancora attiva questa iniziativa penso di sì al bosco Corundoli c'erano i ragazzi di Corundoli ogni giorno Milito lo può confermare ripulivano il bosco facevano un giro nel bosco Corundoli che è grande il bosco non è come il parco di Corundoli il bosco Corundoli ragazzi è un gioiello quindi le risorse ci sono il comune di Termoli non deve dire che non ci sono soldi ci sono comunque le risorse redditi di cittadinanza ragazzi di colori che noi ospitiamo che possono lavorare nel parco comunale quindi non vogliamo che il parco comunale diventi privatizzato assolutamente il parco deve rimanere per tutti noi termolesi questa è una battaglia che porto avanti da nove anni e sarò l'ultimo ad abbandonare il parco comunale beh certo insomma è anche per dar modo di come spiegare insomma anche un po' di integrità anche per questi ragazzi che comunque giustamente si vogliono dar da fare perché si sentono in obbligo di farlo insomma alla fine non è che noi diciamo siccome te stai là te ce devi andare sono alcune volte in cui sono proprio i ragazzi stessi che dicono voglio rendermi utile perché io ogni volta che cammino non mi si caga nessuno non mi guarda in faccia nessuno vorrei avere almeno un'opportunità insomma secondo me può essere una bellissima iniziativa questa qui potrebbe esserlo dare in mano a questa gente qui metterla in collaborazione non vuoi pagare un vigilante non vuoi spendere soldi bene deleghi un guardiano gli dai il numero diretto delle forze dell'ordine se vede qualcosina che non va chiama e intervengono le forze dell'ordine esattamente succede in tutte le ville comunali d'Italia quasi tutte tranne a Termoli guarda caso guarda caso diciamo che rapporto hai intrecciato insomma anche con con le forze dell'ordine ovviamente avrei conosciuto qualcuno che per avere un determinato servizio anche dovendo coprire la zona determinata da Termoli Wild allora noi collaboriamo abbiamo contatto diretto numeri diretti contenenti della guardia di finanza per quanto riguarda le discariche abusive quindi parlo della finanza ambientale stazione Navali Termoli e Ron poi perché ci sono varie finanze quindi io parlo della finanza che diciamo è dirottata sull'ambiente abbiamo il contatto diretto con Capitano di Porto guardia costiera vigili urbani di Termoli Arpa Molise e anche forestale quindi insomma abbiamo canali diretti arriva una segnalazione in tempo reale loro intervengono intervengono sempre possiamo dire che comunque siamo un po' l'occhio del grande fratello insomma si può dire eh si dicono che siamo il grande fratello società in questo momento abbiamo circa 700 persone che ci inviano segnalazioni in qualsiasi cosa accade in qualsiasi cosa la buttano dal centro di Termoli fino ad arrivare a confine quasi con Guardia Alfieri quindi copriamo varie parti del territorio tutta la costa molisana fino al confine con la Puglia di Abruzzo e copriamo con i volontari fino ad arrivare quasi territorio di Campobasso perfetto perfetto Ezio guarda ti dico facciamo giusto una decina di minuti di pausa ti faccio vedere qualche qualche immagine al massimo mi mi dirai qualche tua sensazione o magari qualche ricordo un qualcosa che magari ti può riportare anche indietro nel tempo allora ti faccio vedere questa non so se si vede aspetta la aspetta che te la ingrandisco un pochetto perché è un po' piccolina allora è un un cielo stellato diciamo c'è un piccolo accenno di magari sarà un po' di derriccio o qualcosa magari una landa desolata che ti viene in mente guardando st'immagine allora non guardo bene con lo schermo quindi che cosa mi stai facendo vedere è praticamente un cielo stellato un bel cielo stellato insomma quando guardo il cielo guardo al futuro il futuro è che non siamo soli nell'universo assolutamente quello lo penso pure io che non siamo soli ragazzi assolutamente ci sono miliardi di pianeti che noi non possiamo arrivare con i nostri mezzi che magari sono nanti anche prima di noi miliardi di anni prima di noi saranno talmente evoluti che noi per loro siamo magari delle scimmie delle galline ma abbiamo comunque diciamo che una mentalità aperta è quella che non ci manca insomma ti faccio ogni giorno spero che vengono gli alieni a salvare magari più 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 intelligenti di noi guarda tu stai sbagliando poi ha voglia parlare i padroni della terra se c'è un alieno più intelligente più potente stai solo zitto esattamente esattamente guarda ti faccio una piccola domanda che mi è venuta in mente ti è mai capitato di diciamo passare dalle stelle alle stalle magari c'è stato qualche occasione perdere il lavoro oggi come oggi è all'ordine del giorno l'ultimo lavoro l'ho perso importante nel 2012 quando ci hanno licenziato per colpa di queste multinazionali in pratica hanno smontato lì di produzione l'hanno mandati altrove Polonia Cina e ci hanno mandato a casa in 5-600 persone e da lì ho fatto il venditore di porta a porta adesso lavoro fortunatamente mi sono fatto da solo quindi lavoro come prestazioni occasionali nel reportage documentari per il comune e per le aziende mi sono dovuto formare da solo dovuto credere in me stesso quindi quando in questo periodo ragazzi dovete credere in voi stessi perché ormai il lavoro fisso non ve lo dà nessuno dovete sempre lottare e avere sempre il piano B o il piano C a portata di mano diciamo che equivale sempre la legge dei grandi numeri quando si si tratta comunque di ambiti lavorativi o quant'altro io me ne so potuto accorgere da qualche mese per studiare esatto io non sono arricchito anzi vivo con i miei genitori perché non mi posso permettere una casa ma non mi importa sto bene così però me la so cavare diciamo siamo persone umili Ezio siamo persone umili ho dovuto rimanere disoccupato e disperarmi non mi sono mai pianto addosso esatto esatto come è giusto che sia insomma anche se il periodo non è proprio quello dei migliori insomma tutti ci siamo dovuti inventare qualcosa dopo dopo sta pandemia che è scattata sto virus di merda e c'ha rotto i cojoni poi per quanto riguarda anche diciamo l'aspetto generale di di Termoli Wild anche hai avuto modo magari di collaborare anche con qualche comico non lo so anche nello staff come no mi rido quando ci penso vabbè a parte Luca Grassia è mio figlio piccolino quello è il top oramai l'abbiamo adottato come lo guardo come fa un doppiaggio io non ce la fa qui mettiamo due giorni a fini doppiaggi perché vediamo tutti delle fesserie che diciamo magari qualche giorno faremo un doppiaggio in diretta così vi rendete conto che è manicomio sarebbe bello secondo me sarebbe bello lo sai sarebbe bello perché noi poi ci facciamo le serate il sabato sera e riportiamo quello che viviamo nei doppiaggi questo lo facciamo col doppiaggio addio ragazzi io collaboro ho nello staff Mago Checco Francesco De Santis è clown quindi lui è il comico dello staff quindi collaboro con Mago Checco con Mago Peppe e anche c'è Mago Jack quindi trattiamo anche la magia e questi giorni saranno andando in diretta vari artisti con Termoli Wild Event Show 2021 la magia che comunque è un buon format diciamo per accumulare anche per persone all'interno di una community perché comunque è rivolto un po' ovviamente dipende anche dalle tipologie di numeri che vengono utilizzati però comunque c'hai comunque una percentuale di pubblico assicurato perché ci sono comunque i bambini i bambini magari i genitori e l'adulto esatto che comunque vengono vengono ipnotizzati insomma assolutamente noi abbiamo gli illusionisti i migliori che abbiamo qui presenti sul territorio Mago Peppe Mago Jack e Mago Checco perché Mago Checco ha due qualità è un mago ma allo stesso tempo fa ridere il pubblico quindi lui è anche il comico della situazione guarda l'ho visto se non mi sbaglio ogni tanto lui si esibiva al trichè quel lito sotto a Rio Vivo mi ricordo perché si ha fatto una diretta per i bambini su Termoli Vali per il carnevale quindi ha fatto delle scenette comiche delle magie ha divertito tanto carnevale come si è visto a Termoli il carnevale è stato un po' animato comunque non no qualcuno ha fatto una festicciola piccola a casa non c'è stato niente per le strade non si vedeva manco bambini con qualche vestitino coriandoli stelle filare nulla proprio no io per esempio oggi sono andato io corro sempre in zona adesso perché non si può più andare a correre lungo mai certo certo ho trovato un po' di coriandoli di fronte a qualche garage qualche abitazione privata magari hanno fatto delle feste dei genitori per i bambini direttamente a casa porco giuda ma è qua a Roma oddio sta ogni tanto qua a carnevale oddio ogni tanto vedi qualche bambina bambina vestita da fata uno vestito da spiderman però ti dico il giorno di carnevale qui a Roma è stato oddio non dico movimentato ma comunque un po' di gente dai con i bambini sono un po' diversi beh certo i controlli sono un po' inferiore rispetto se il paese è piccolo si controlla subito la città è grande c'è un po' più di elasticità c'è chi rispetta le regole e chi non le rispetta beh guarda comunque mi è capitato guarda proprio giusto oggi ero arrivato all'ultima citofonata di una palazzina però io mi ritrovo le macchine due carzelle dei carabinieri che stavano al civico dopo che controllavano tutte e due le scale citofono sta povera signora io mi ho detto vabbè stanno i carabinieri da qualcuno stanno ma citofono se mi mandano a fangulo male che va sti cazzi insomma non ci ho perso nulla salve signora le volevo proporre bla 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 no guarda a me mi hanno appena terrubato a casa vabbè signora come se mi ho chiesto nulla tanto ne devo salire ne devo scendere rimango qua come se mi avessi chiesto nulla ma se che cazzo di giornate mamma mia allora si sono fatte guarda non ti vorrei manco ci siamo fatti già una bella oretta di chiacchierata ci facciamo ci facciamo giusto magari qualche qualche altro minutino allora magari nelle prossime dirette ti faccio ospitare le altre 100 persone magari magari mi farebbe mi farebbe comunque piacere perché io adesso ti ho nominato solo i tre i maghi che abbiamo ma abbiamo Stefano Tocchio che si è esibito l'altra sera il mago delle bolle di sapone lui fa delle bolle di sapone delle sculture con le bolle di sapone abbiamo vari cantanti Marianne Tomo cantante lirica Francesco Cascitelli e abbiamo Aldo Ciavarella il chitarrista con il figlio Raffaele Ciavarella sono degli artisti già affermati Luca Canale quindi sto parlando anche dei cantanti Katia Nestola il canale il DJ che l'ho conosciuto tramite tramite altri ragazzi anche Luca perfetto quindi ho tutti questi artisti adesso che sto mandando in diretta ho Millie De Angelis che racconta le favole per i bambini è ancora in diretta Millie ho visto anche qualche puntata sì 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 qualche puntata l'ho vista tempo fa le favole favole e conoscenza sta raccontando quindi non è raccontare le favole normali le classiche lei racconta le favole e fa conoscere anche la storia una tradizione dei bambini certo certo lei le pubblica ogni sabato alle ore 16 io non mi voglio dimenticare nessuno ma c'è talmente tanti collaboratori che stanno è impossibile è impossibile anche ricordarli tutti se mi scordo e mi dimendi qualcuno ragazzi non mi fucinate perché vabbè Luca Grassi l'abbiamo nominato c'erano tanti c'ho Daniela che sarebbe la figlia della vicepresidente Termoli Wild che per esempio fino all'anno scorso fino a quando ha potuto faceva delle lezioni di inglese gratuite su Termoli Wild quindi intratteneva il pubblico delle lezioni di inglese quindi comunque è stata è stata diciamo una cioè una bomba nucleare insomma anche se possiamo vederla anche dal lato positivo questa pandemia insomma è potuto avere modo di portare un po' più di contenuto perché più gente insomma avevano questa voglia di di fare qualcosa insomma gli è comunque dato un bello un bello spazio una vallola di sfogo e adesso hanno il loro palinzesto settimanale se seguite poi la pagina di Termoli Wild ci sono le storie le locandine gli orari fissi settimanali abbiamo messo la pittura ad acquerello c'è Nicola Pelilli che realizza ogni martedì per esempio mi viene Nicola Nicola chi è? Ico Ico giusto? Ico Ico Casio Junior ok dipinge ogni martedì dalle 19 alle 20 prende una foto dei nostri fotografi per esempio del Borgo Antico e lui ti realizza la tela in acquerello l'hai mai visto l'hai mai visto diciamo in ambito musicale invece Ico te quando è che l'hai conosciuto? ma io gestisco siccome gestendo anche le immagini di diversi artisti sono un amico di Mirko Zelle Mirko De Filippo conosco conosco è un amico mio adesso sta a Bergamo andavo a fare le serate insieme quindi li facevo da service video e montavo diciamo le serate fino a quando si facevano serate vivevo tanto il sabato sera guardo ho lavorato ho avuto il piacere di lavorare con Mirko al quarto senso quando ce l'avevo in gestione con la ragazza Angela se non mi sbaglio si chiama giusto? mamma mia avevo 15 anni adesso è un insegnante adesso insegna proprio percussioni io se mi sarei riallacciato magari con Mirko in quell'ambiente conoscendolo perché non conoscevo quasi nessuno che fosse più grande di me se avessi saputo chi era e che strumento musicava utilizzava e come lo utilizzava guarda penso che avrei fatto due più due molto 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 prima guarda l'avrei fatto molto molto prima in questa squadra sono entrate anche artisti che non sono di termoli perché abbiamo delle persone che vanno in diretta dai Sernia c'è la pianista Francesca Sinibaldi 15 anni è bravissima poi abbiamo Donato Lampariello cantante conosciuto karaoke serate canta di tutto di Palata ballo, pittura, fotografia cucina, cultura gli ultimi artisti e cantanti che sono entrati a far parte in questo progetto certo poi abbiamo Ilenia Palladino l'artista che presenta le sculture e la sua pittura con varie tecniche dalla scera e dall'acrilici in diretta abbiamo tutto se apri Termoli World è come se fosse non so mi chiamano Freedom certe volte forse facciamo qualcosa in più perché cuciniamo pure beh senti comunque un accenno di libertà comunque all'interno di questo sito lo sto comunque addocchiando ora e c'è di tutto comunque ti posso dire che posso dire ragazzi in chat che c'è abbastanza di tutto esatto c'è tutto c'è tutto però non trattiamo la cronaca noi non siamo un giornale di informazione cultura ambiente esatto natura ambiente cultura queste cose non siamo un canale di informazione però lo sto per diventare sto finendo a fare un po' di documenti quindi a breve forse Termoli World diventerà un vero e proprio giornale perfetto allora guarda Ezio diciamo che comunque è stata diciamo la prima spero non l'ultima di un tuo allarcio anche con con una community di Twitch insomma ora la mia purtroppo non è una delle delle più grandi insomma esatto un argomento e andiamo nel particolare certamente ora comunque ti stavo dicendo non è non è una una delle più grandi ma neanche una delle più piccole insomma ma avrei preferito che ci fosse stato qualcuno in chat magari per fare qualche domanda e guarda vorrei diciamo iniziare a concludere guarda comunque Twitch si riaffaccia molto sul sull'ambito del gaming insomma o tutto ciò che ci attorno insomma a livello scenografico anche ci sono anche persone che hanno un lavoro di background con all'incirca mille viaggio capurso fa parte del mio staff viaggio capurso lo vorrei ricordare perché poi ci vorrei arrivare anche a questa cosa ti avrei voluto fare fare una domandina guarda magari ti faccio una domanda che ti può essere magari non te l'hanno mai fatta anzi te ne faccio due i cinque giochi che hai più amato magari in tutta la vita tua cinque giochi magari play 1 nintendo tutto allora playstation 1 pass il primo il primo pass è uscito nel 97 che c'era ronaldo che faceva 300 all'ora che correva poi c'era del fiero che tirava il giro baggio quello è stato il gioco più bello del catch poi sono nati gli altri con più grafica ma quello è stato il migliore poi double dragon street fighter mamma mia mamma mia sono tutti caldo sono giochi che anni 80-90 hanno delirato io gioco ancora a questi giochi c'è la nintendo 8-bit nell'82 a casa quindi gioco apple dragon mario bros tartaruga ninja star wars ma io non me la fan vedere che te la rubo io quella là della porto via te la porto quella costa tanti soldini scherzo a parte scherzo a parte mi sono comprato anche una di quelle nintendo che sono uscite che sono uscite ora sti giorni quelle piccoline guarda però con il fatto che adesso vuoi giocare con qualcuno che c'è pure a casa guarda è di un divertimento guarda che lo preferisco magari anche più a giochi che sono di non dico all'ultimo tiro ma ad esempio a me piace molto giocare a hitman 2 non so se conosci la figura di hitman un assassino che comunque deve stare alle regole prettamente dell'assassino non si deve macchiare ho giocato una partita a come si chiamava winning tennis 1999 mi è piaciuto molto di più guarda era allora quei giochi sono diversi da questi qui adesso c'è più tecnologia esatto tutta destrezza e velocità erano più soltanto tecnici perché non potevi sbagliare che non potevi salvare la partita avevi il tempo contato la vita scendeva subito quindi erano molto più difficili i giochi del passato rispetto a questi che presenti questi sono più complessi cioè non voglio togliere niente a queste persone che giocano con dei giochi stupendi no certo lo rimpiango i giochi degli anni 80-90 ogni tanto pure io e vanno ancora vanno ancora cioè uno si gioca si diverte sempre sono infiniti sono quindi ecco un modo insomma per torna pure indietro nel tempo insomma per torna bambino con le 50 lire o con le 100 lire che le andavano a ficcare 200 erano infatti o 500 lire però ti dava 4 vite ma 4 vite guarda adesso una classifica magari i 5 peggiori invece allora peggiori giochi sempre nuovi vecchi ma guarda in generale quelli che con cui hai giocato Tombo Rider non riuscivo mai a finire era complesso ma quante parolacce dicevo ma dove ci stava il cameriere tutto si guarda non l'ho mai finito mi stava antipatico quando c'era ah la ragazza che sbagliava la poi facciamo un po' partiamo da parte con poi l'altro gioco che mi stava antipatico Alone in the Dark quel signore che camminava che doveva entrare in quella casa un gioco difficilissimo che si bloccava sempre il pc parlo del 386 perché giocavamo con il 386 dovevi installare un gioco che teneva 9 dischi mini disc quindi non era chiavetta dovevi installare e poi dovevi giocare col 386 giocavo poi altri giochi non giocavo mai quello del biliardo ok troppo grafici poco tecnici bella raga bentornati sport queste cose qua il calcio lo giocavo sempre però il sport troppo tipo golf questi giochi non ti sono mai piaciuti molto non piace neanche paccoman però non paccoman quello tridimensionale quello che si vede all'alto ho capito pure quello non mi ha mai appassionato insomma giochi un po' troppo semplici dai ho capito diciamo magari se ci fosse un gioco che magari vorresti portare in un futuro qui su twitch su un tuo canale quale sarebbe uno che diciamo c'è quella cosa goliardica di volerci giocare proprio double dragon a vita si si double dragon io glielo proposi anche a viaggio capurso non so se in diretta ha detto ma si può giocare con questi giochi vecchi lui mi disse mi sembra di no non è possibile street fighter tartaruga ninja 2 quelli che si giocavano diciamo con 4 con 4 con 4 lì con 4 personaggi michelangelo raffaello tutte e 4 insieme double dragon street fighter 2 pure va anche lotus spring 2 quel gioco con la macchina che era la lotus della camel bellissimo c'era il cabinato e anche quel gioco che si giocava con i tre manubri formula 3 mamma mia che roba che si giocava a 3 che roba quello pure quello sono giochi storici che vanno ancora oggi allora io chiede godofradis io stavo chiedendo se avessi i capelli dietro oppure solamente l'ombra ma io posso mai avere i capelli allora io io sono pelato e vorrei essere pelato a vita a vita mi devo fare il trapianto non per avere i capelli per finirmeli di toglie perché non voglio avere più problemi di rasatura e spendere 10 euro di batteria per la macchinetta insomma Ezio guarda io ti ringrazio davvero di cuore per per averci offerto questo piccolo spazio insomma che avevo anche io insomma voglia di poterti invitare solo che tra una cosa e un'altra insomma è tutto un casino è tutto un corri corri e guarda sono contento che bene o male questa trasmissione sia riuscita ne sono molto 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 contento ultima cosa grazie mille ne sono decisamente molto più contento ultima cosa gradirei fare un piccolo minutino di silenzio un po' per la situazione generale di Termoli e qualche defunto insomma anche di non solo di mia ma di nostra conoscenza insomma sorvolato nell'alto dei cieli da poco fa grazie mille grazie mille grazie mille io ti ringrazio per essere stato ospite qui con noi e ti ringrazio anche per diciamo per aver appoggiato questo piccolo minuto di silenzio volevo dedicarlo insomma a qualche persona di nostra conoscenza insomma come ho già detto mille grazie a voi per per il supporto anche anche in chat grazie mille per insomma per il follow magari guardate ragazzi dopo dopo che avete messo il follow su questo canale vi arriverà magari la notifica quando inizierò una live se magari avete piacere di passare insomma io ne sarei molto 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 contento allora Ezio io ti ti lascio ti insomma ti lascio le due stacco un attimino che faccio un piccolo resoconto con la mia chat e poi vado a dormire pure io ti ringrazio ti ringrazio spero di rivederti qui con noi presto buona notte ragazzi grazie a voi e forza il molise forza ragazzi forza il molise grazie Ezio ciao mamma mia ragazzuoli mamma mia ragazzuoli fatemi attivare un attimo la gamma qua franca aspetta dove ne vai dove ne vai qua dobbiamo parlare di cose serie dove devi andare franca vieni qua bella te babbo purtroppo vieni qua aspetta che attivo sta gamma attiva oh eccoci qua ragazzi che cosa abbiamo imparato oggi con il grande Ezio con il sommo Ezio con il sommo Ezio io gli cambierei il cognome gli metterei Ezio Auditore come cognome a sto ragazzo una forza d'animo che mamma mia ce l'hanno in pochi purtroppo ce l'hanno in pochi anzi meno male meno male che ce l'hanno in pochi se no se fossero stati troppi non si sarebbe potuta gestire magari andava ne basta uno basta Ezio basta Ezio ragazzuoli ricordate tutti quanti che c'è un purtroppo dentro ognuno di voi dovete avere la forza di tirarlo fuori e abbattere tutti tutti tutto ciò che vi passa davanti lo dovete abbattere a cazzotti a zambate proprio a calci in culo ci avete un problema prendetela a calci in culo l'avete già risolto parola di purtroppo ragazzi io ringrazio comunque tutti per il supporto in chat vi ringrazio tutti Davidone grazie per l'abbonamento di tre mesi disgraziato sei fatto sei arrivato hai fatto l'abbonamento Davide 85 la piatta e se n'ha nato almeno a scrivere ciao bello mio mi sei mancato manco quello Milli Franca io godo ditegli qualcosa voi a Davidone a piatto se n'ha nato mannaggia a lui mannaggia ragazzuoli io domani mattina devo andare al lavoro presto perché devo aprire l'ufficio ma hanno lasciato sta grande mansione ci siamo fatti un'oretta di live spero sia stata utile anche per voi per sapere qualcosina torneremo a parlare di questa regione che per alcuni non è dimenticata ma per alcuni sì alcune persone ci marciano ci marciano molto ragazzi da purtroppo è tutto ci vediamo dall'altra parte grazie grazie grazie